Grave lutto per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Questa mattina è morto a 93 anni il padre, Nicola Conte, per anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo. Lo ha comunicato il vicepresidente della Camera, Giorgio Moulet, in aula a Montecitorio. Devo comunicare una tragica notizia. Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. La presidenza della Camera formula ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore. Anche Giorgia Meloni in un tweet ha scritto, voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore. A lui e alla sua famiglia.